Stata presentata la decimedizione della Biennale dell'incisione italiana contemporanea città di Campobasso maggio a Domenico Fratianni che da oggi e fino al 18 ottobre sarà allestita nelle sale espositive di Palazzo Gil. I figli di Domenico Fratianni, Annalise e Gerardo portano avanti meritoriamente l'opera del maestro e il sogno al quale era indissolubilmente legato fare del Molise di Campobasso un punto di riferimento dell'arte incisoria italiana contemporanea. Fratianni, ricorda il presidente della regione Donato Toma, non è stato solo un pregevole pittore, disegnatore, incisore apprezzato e stimato in Italia e all'estero, è stato un autentico pioniere dell'arte incisoria, un divulgatore di questa affascinante tecnica che grazie a lui è stata sdoganata qui in Molise e fatta conoscere al grande pubblico, soprattutto a quello giovanile. La commissione scientifica della Biennale, unitamente a tutto il comitato promotore, ha deciso di rendere omaggio alla memoria di Domenico Fratianni con l'esposizione di una raccolta di opere del maestro fornita a titolo gratuito dalla sua famiglia in una sezione della mostra a lui dedicata. Nel 2011, in occasione delle celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, è stata allestita la mostra grafica oggi, Viaggio nell'Italia, dell'incisione. Per la decimedizione della Biennale, questa mostra è stata riproposta nelle sale espositive della Fondazione Molise Cultura. Si tratta di 123 opere, tra le quali due del maestro Fratianni, che conducono il visitatore attraverso un percorso di conoscenza dell'incisione italiana del Novecento fino alle ultime tendenze, tra tecniche tradizionali e innovative, modi e mezzi espressivi consolidati, ma anche inusuali, da evidenziare come le stesse siano state acquisite al patrimonio della Fondazione Molise Cultura, un'operazione importante che prelude ad altri interessanti progetti da realizzare sul territorio. Il governatore del Molise ha proposto che a partire dalla prossima edizione la Biennale sia intitolata al maestro Fratianni. Grazie. 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 Grazie a tutti.